No, pensavo che io avessi la palla in mano e non le mani in tasca. Dai Lazio! No! Chi è? Sta lassù ma Antonio, però no. Vai! Bravi! Mano bravo dai! No! Vai Zanzo! Vai Adria! No! 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 Oh! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Categoria Under 12, la US Primavera deve recarsi subito al campo 12C, US Primavera al campo 12C urgentemente per giocare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.